Se uno pensa di accentrare tutto per riportare come una volta tutto nel mare magnum nazionale, dove non si distingue più chi lavora bene e chi lavora male e quindi tutti ci rimettono, sarebbe un danno per il Paese. Dopo è chiaro che c'è da distinguere chi lavora bene e chi lavora male. Faccio un esempio, io sto trasmettendo da Trieste, Friuli, Venezia e Giulia. In questo caso la Regione lavora male, la Presidente Seracchiani per dare maggiori trasferimenti al Governo nazionale ha deciso di tagliare il fondo sanitario facendo dei danni enormi che adesso i cittadini stanno vivendo sulla loro pelle. Ci sono esempi per esempio di reparti che non hanno il personale sufficiente, di ambulanze che non possono portare il malato anche grave nell'ospedale più vicino perché non c'è posto, c'è stato un forte taglio di posti letto con questa riforma sanitaria, c'è stato il taglio di quattro ospedali e quindi ovviamente ci sono regioni che lavorano male. Le regioni che lavorano bene come il Veneto, dove per esempio le liste d'attesa sono rispettate per il 90% rispetto ai tempi previsti, quindi secondo me bisogna valorizzare le diversità cercando però di dare una primelità e far lavorare tutti bene, non accentrare per dire chi lavora bene, chi lavora male, la stessa cosa, mettiamo tutti insieme, perché non mi sembra che una volta funzionasse così bene i servizi sanitari oppure non ci sia stata differenziazione tra aree ed aree del paese, vi faccio un esempio, se portiamo sul campo altre competenze che invece sono dello Stato nazionale, non è che in quelle competenze tutto funziona bene allo stesso modo a livello nazionale, anzi ci sono comunque le differenziazioni.